Buongiorno da questo YouTube di Sandro. Da questa altitudine del sentiero dove mi trovo, in diretta l'hotel abbandonato di Tartavalle Terme. Guardate che spettacolo caratteristico che abbiamo di fronte a noi, molto caratteristico, con tutta la neve presente. Questo è tutto il paesaggio, tutto bello imbiancato che si pone alla nostra vista. Ecco qui, abbiamo una riduzione del focus. Questo è il sentiero che dal comune di Taceno porta a Vendrogno. Dalla parte opposta, qui davanti, in primo piano, abbiamo la bellissima chiesetta di Parlasco. Procediamo. Davanti a noi abbiamo una cappella della Madonnina, dove potersi soffermare a fare qualche preghiera. Questo è lo spettacolo di questa splendida giornata azzurra. Vi saluto da questo YouTube di Sandro.